Io so che i politici, tutti i politici, prendono la consenso che c'è un discorso di appacciamento per tutti. E ciò mi crea un discorso che è meglio inteso, che dopo i giorni si posano una questione e si sentono investiti per fare affadaci. E dopo i giorni, malorose, dicono anche i paletti perché li hanno pagati, ma a un momento in realtà non entrano più giù, perché come è sempre stato, poi si è meglio che non so, e dopo i parenti saranno di nuovo contrariati e ci saranno di nuovo i problemi.